anche se non è vero e non è vero per me è vero che inizia in un secondo allora cosa facevamo nel caricamento c'era prima la canzoncina c'era la magia anche anche la canzoncina i nostri benefattori i nostri benefattori questo è il primo ha proprio l'hai vista a ferma questa fuma non è troppo ragazzo non è troppo lo sai che fa male ahahah ma aspetta ci siamo qua ma no ma questi sono i pistoni ma perchè vogliamo mangiare d'ultra città ma se non puoi città perchè è l'ultra città ma se non puoi città perchè è l'ultra città cos'è l'ultra città cos'è l'ultra città suona il nero non ho fatto tanto oh no no ok un buon partito fermato ci stiamo arrivando all'occuore al cuore della cittadella non ci sono anche l'ultra città quale quest'ultra città e che cos'è la cittadella la cittadella dove città no dove città no dove c'è l'ultra città no non voglio ammattare questo in te sta e poi si chiacchierà l'alate no a livellato questo momento non mi paremmo e oltre per un casino tutte le famiglie e tutte le mie un casino e poi c'è vero un luogo e l'amore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti